Ciao, sono Sara. Mi occupo di cucina professionale da 23 anni, con le docenze, il catering d'autore e l'insegnamento nella scuola professionale. Quello che vedi di me sui social, su Facebook, sulle dirette, nei video, sul blog, è solo la punta dell'iceberg di un lavoro che è fatto di tanta formazione. In tutti questi anni e ancora oggi, continuamente, studio ricette nuove e le metto in pratica, facendo corsi a mia volta e frequentando fiere di settore e acquistando e studiando tutti i migliori libri di professionisti che trovo sul mercato. Non solo, la mia formazione più importante è quella di centratura spirituale, ovvero per tanti anni ho frequentato in tutto il mondo corsi di formazione personale, dove ti insegnano a valorizzare al massimo tutte le tue capacità. Queste qualità oggi mi appartengono, quindi sono in grado anche di condividerle con te. Come se non bastasse, ho anche una formazione nel sociale. Difatti, ho lavorato a lungo in comunità per persone con problemi di disagio. Questo mi ha portato a sviluppare una grande capacità di relazionarmi con qualsiasi tipologia di persona e di stabilire relazioni ricche e funzionali. Per quanto riguarda la tipologia di cucine di cui sono competente, ti posso dire che le ho praticate e studiate tutte. Da ragazza ho cominciato con la cucina vegetariana, poi con la vegana e con la cucina macrobiotica, per poi passare con grande interesse alle cucine etniche, quali le cucine indiane, medio orientali o ebraiche, e alle cucine internazionali, ovvero le cucine europee e quelle americane. Non solo, la cucina regionale italiana è e rimane la mia grande passione. Dieci anni fa, per mio interesse personale, ho cominciato a praticare il sistema alimentare del gruppo sanguigno, elaborato dall'omeopata Peter D'Adamo e poi sviluppato in Italia dal dottor Piero Mozzi. Ne ho tratto talmente giovamento per la mia salute che negli anni ho deciso di focalizzare tutto il mio lavoro professionale su questo sistema alimentare. Cinque anni fa ho fondato la scuola di cucina di Sara, qui a Lodi, proponendo corsi di cucina del gruppo sanguigno. Ha avuto un enorme successo e in questi anni sono passati dalla nostra scuola centinaia di allievi da ogni parte d'Italia e dall'estero. Quest'anno, insieme al mio partner lavorativo Maurizio Brizgotti, che si occupa di tutta la parte visual, abbiamo fondato In Cucina con Sara Academy, la nostra scuola di cucina online. Ti do quindi il benvenuto nella nostra community In Cucina con Sara Academy. Ciao!